Buongiorno, sono Monica Novielli dell'Istat di Venezia. La statistica è uno strumento di cittadinanza attiva? Sì, perché ragionare sui dati ci permette di districarci nella miriade di informazioni intorno a noi. Il progetto di statistica e cittadinanza mette a confronto la percezione degli studenti con i dati della statistica ufficiale. Quest'anno il liceo Berto di Mogliano Veneto e l'Istituto Belli di Portogruaro hanno raccolto più di mille questionari sulle percezioni ambientali degli studenti. Aria, acqua, rifiuti, i risultati sorprendenti hanno evidenziato un forte distacco tra la percezione degli studenti e la realtà dei fatti. Ai ragazzi è sicuramente rimasta la consapevolezza di dover agire sul mondo anche con piccole azioni. Fare la raccolta differenziata, non sprecare l'acqua, utilizzare mezzi pubblici. Piccoli passi verso una cittadinanza attiva e consapevole.